Si chiama Ethosland, il progetto di rimboschimento del gruppo Ethos, la società che gestisce molti centri commerciali tra i quali l'Aquilone, progetto che arriva nel capoluogo con la messa a dimora di 51 nuove giovani piante in due aree della città. Obiettivo donare nuove piante per riqualificare le aree verdi locali e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 del territorio, iniziativa che ha visto la collaborazione con l'assessorato all'ambiente del comune. La sinergia di competenze e la dedizione dimostrata hanno consentito di individuare nel parco Baden Powell a Pettino e a Piazza Darmi le dimori ideali per la crescita delle nuove piante. Questo progetto si inserisce perfettamente in quella che è la visione che stiamo portando avanti all'interno del nostro comune, sia sui cambiamenti climatici, sulla qualità dell'ambiente, sulla qualità dell'aria e sulla qualità della vita dei nostri cittadini, perché gli alberi, come abbiamo avuto modo di dire in più occasioni in un contesto urbano, hanno numerosi benefici, sia sulla vivibilità proprio della città, sull'abbattimento delle emissioni climalteranti, l'abbattimento delle isole di calore. Nella galleria del centro commerciale L'Aquilone, inoltre da ottobre fino a gennaio 2024, è stata presente una postazione per promuovere questo progetto, per incentivare i clienti a donare e per gestire ogni fase del content artistico Green Contest School, che è stato vinto dalla scuola di Paganica, dall'istituto comprensivo. Con la sinergia creata con l'amministrazione comunale, l'assessore all'ambiente ed anche con le scuole primarie della città, si è arrivati a realizzare un percorso che nasce a settembre con il Green Contest School realizzato dalle scuole primarie, con grande successo e entusiasmo dei bambini, che ha portato anche alla premiazione dell'istituto di Paganica, che ha ottenuto 500 euro di premio per materiale didattico e poi attraverso questo all'educazione ambientale, i laboratori all'interno del centro commerciale, svolti all'interno del centro commerciale, si è arrivati alla fase di piantumazione delle 51 nuove vite, piccoli arbusti che cresceranno e che ci hanno portato anche a definire un percorso che possa continuare in questa ottica. Grazie. Grazie.